Musica Hola io sono Marcus Crohn e bentornati sulla Sky Factory Bella per voi ragazzotti Oggi voglio fare tre obiettivi Sarà difficile ma lo faremo Ho costruito la piattaforma laggiù Ma non è ancora il momento di usarla È il momento di salire qui sopra E far vedere ancora una volta Quanto è figo tutto questo Bene 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 Fatto ciò vorrei 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 Vestire un monocle Un monologo Ecco qua un monologo che è un discorso Fatto da una persona sola Andiamo a fandolo E manca una pepitozza d'oro Hop 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 E signori Ecco qua Un obiettivo completato Oh salve Molto lieto Tadam Fatto Bene 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 Allora No 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 Ancora no 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 Take a cookie from Questo qui che cos'è andiamo a leggere? Ah aspettate Aspetta Aspetta Cookie C'è? Eccola qua Eccola qua C'è questa C'è questa Posso fare un cookie? Cookie 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 Questo è in forno e questo è in frigo Vediamo un po' No Non ho il glass Glass eccolo qui Pana glass Uh ma da di Sonic Ma te la pesca Di chi sono questi vassi? Seguiamoli Di chi sono queste impronte? Altre impronte Di chi sono queste impronte? Di chi sono queste impronte? Che è? Oh 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 cazzo Oh cazzissimo Oh super cazzo Oh 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 Che merda cazzo Merda Fermi 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 Panico Panico più totale Ragazzi Oh mio dio Stanno arrivando Ho sicuramente Dimenticato di mettere delle torce Oh mio dio adesso E adesso ci armiamo Di tutto punto Siete pronti? Speriamo che non siano creeper Ho molta paura però Oddio riprendiamoci questo Ok 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 Dove cazzo stanno? Che è là? Ma vaffanculo Sono le galline Sono le galline cazzo Belle galline Belle 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 Ok Allora Torniamo a fare Quello che stavamo Fando E facciamo Il cookie Jar Molto bene Lo posizioniamo Qui E signori Non ci voglio Ci devo mettere I biscotti Giustamente E signori Mettiamo un po' Di biscotti Voilà Ce li mettiamo dentro Posso mettercene di più? Sì E prendiamo No come si fa? No come si fa? Così E prendiamo un biscotto Dalla giara Lo mangiamo E fortunatamente per noi Senza mob Abbiamo completato Un altro obiettivo Ma cazzo Siamo fortissimi Ok Ok Vediamo un po' Che cosa ci manca Ah ok Sì Giusto Questo lo volevo fare da tanto Però effettivamente Non mi è mai capitata L'occasione Adesso la facciamo Signori Io sono Marcus Cron E mi sto suicidando Agli asciappata Siamo morti E abbiamo completato Anche un altro obiettivo Ovvero Ovvero Dov'è? Dov'è? Fly Suicide Ok va benissimo Un villaggio Cobblestone in deep storage Occassiopea A cobblestone in Distro... Distro... Don't stop or Larry Molto bene Mi ripeto queste cose Vestiamo il nostro monocolo Ci mettiamo questo 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 E il monocolo Che è bellissimo È fantastico È meraviglioso Ripendiamo Queste cosine qui E le ender chest Cassiopea Dunque 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 Cosa voglio fare oggi? Oggi voglio fare Andiamo sui generatori Della Extra Utilities Generatore Portami via E voglio fare il culinary generator Ci serve il survival generator E una fornace Dovremmo averla Abbiamo fatto il culinary generator Per ora Per ora Per ora Voglio metterlo laggiù Poi ci sposteremo Ci allargheremo un pochino Dunque Una fornace Molto bene Degli item duct Dei pneumatic tube Degli hopper Dei vacu stopper And What's American boys È un leadstone Vatterapesca Che voglio 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 Distruggere Vediamo un po' Se riesco a romperlo Ok Adesso è svuotato di tutta la sua energia Andiamo a vedere Anzi andiamo a prendere Un uovo cotto Posso cuoccherlo? No Nel pulverizer No Oh mio dio Datemi questi Ok E Prendiamo No Me l'ha inculato Maledetto Maledetto Dai Dai piccola pampina Dammi Un Boiled egg Un Boiled egg Dammene pure un altro Thank you Very much Sapete che stavo pensando? Che I I fluidi Purtroppo no Ma Gli item duct Io posso metterli nello svarasvaus Sì Sì E diventano super veloci Fantastico Glowstone Ci mettiamo un po' di Glowstone Acchi dentro E ci sta facendo gli item duct Impulse Very well Grateful Che vuol dire grateful? Buh No Ehm Vediamoci questi altri Sette Ne mancano sette Ne mancano sette Ne mancano quattro Aspettate Aspetta Aspetta Perfetto E abbiamo fando Allora voglio andare qua sotto Oppela E voglio 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 Mettere un item duct E Un pneumatic Brub Voglio dirgli Bello de casa Sciuscia Immantinente Tutto Quanto Vediamo Così E svrenciarlo Verso il fuori Oh ciao cart Come stai? Tutto buono? Tutto buono? Molto bene Andiamo A fare Svrenciato E poi prendiamo La reston furnace La reston furnace La metterebbi La metterebbi Dove la metterebbe Este voi? Io la metterebbe Ai qua Rompendo Questo Ora Se tutto Va come Ho Presagito Questo fregno Dovrebbe Essere un impianto Di generazione Gratuita Dell'energia Lo so Lo so È strano dirlo Tu non ti dovresti collegare Piece of murder Brutto Piece of murder Dove sei? Dove sei? Dove sei? Oppela Ok Molto bene Qui dentro ci stanno le uova Fantastic Adesso vediamo se Con l'energia di un uovo cotto 30 RF Per 18 secondi Riusciamo a cuocerne Almeno 2 Se riusciamo in questa impresa titanica Signori e signori Potremmo avere la farm Effettivamente Infinita Mandiamo Le uova cotte di qua Sembra 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 Perché non mi porti l'uovo? Dai Portami l'uovo Eccolo Eccolo Sta aumentando? Signori aumenta Signori aumenta Signori aumenta Ma 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 Com'è? È meraviglioso Ma è benissimo Ok Qui ci sono 330 Adesso non so dove mettere questa Perché ho paura che se me la mettessi qui Ciccio si inculerebbe tutta l'energia Vediamo Vediamo se sta scendenzo Sta scendenzo Una ciaifra Come fare? Come fare? Come fare dunque Per accumulare l'energia Invece che Buttarla On the chest Mmm Mmm Qui è zero E qui sta salendo Vero 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 Se La porto di qua Questo qui Non accumula energia Che non è stata prodotta da lui Va bene Allora Questo Prende E manda i cosi Questo Eh Le uova qua Questo produce energia Io voglio mettergli La vorrei mettere La vorrei mettere Qui Va bene E poi prendiamo Degli Dei leadstone Vattela pesca Gli hardness E gli facciamo fare Questo giretto qua No Tu non sei Hardened Tu sei Un item duct Sei brutto Andiamo a prendere Il coso Dov'è? Ah ecco lì Scusate Facciamo gli fare Questo giretto qua Che è bellino E gli diciamo Ciccio dagli energia Pura la fornace Non essere tirchio La fornace è piena Come un uovo È il caso di dirlo Qui Le boiled egg Aumentano E qui l'energia Tecnicamente è stabile Fino a quando Questa Come fa ad essere stabile? Scusate Ah 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 Così prende Deve dare Questo qua sopra Ok Sta scendendo Fino a quando Non sarà carica Nel momento in cui È carica Sta salendo Signori Abbiamo una farm Di energia È poca È poca È vero Lo ammetto Però è gratis Cioè nel senso Cioè tipo Le producono le galline Qui E effettivamente Io ne ho Davvero tante Ne ho 2000 Qui in breve Si riempirà di cicci Potremo aggiungerci Anche un altro motore Farlo riempire Anche Un altro motore E potremo trovare Un setup migliore Ma per ora Vi voglio ricordare Che questo è il nostro Terzo tipo di energia Prodotta Perché Abbiamo La lava L'amore La potenza dell'amore E Questa qui Quindi Possiamo dire Possiamo dire Di aver fatto Tre tipi di energia E voilà Un altro Cazzo Di Già ho fatto tantissimo Oggi ragazzi Sono spettacolare Sono bravissimo Ok Dunque Dunque Fatemi riflettere Perché io volevo Fare una mezza cosina Avevo una mezza idea Fatemi mangiare un biscotto E Stavo decidendo Come farla Ma si Ma si Ma che ce frega Ma che ce importa Cerchiamo la Extra Shell Dove stai? Vieni qui Ok E Prendiamo Voglio fare L'ME Fluid Terminal Intanto voglio fare Una Come si fa questo squarzo? Interessante Com'è? È bello? È molto tech È molto high tech Si unisce Però c'ha sta texture Di murder Ok Si rompe Meno male Forse avrei dovuto Prima provare Con uno soltanto Però va bene lo stesso Va bene lo stesso Mottiamolo dentro Facciamo le altre Facciamo una Certus Tank Tank Sbrisbranved Poi creiamo Un Assess Terminal Mi manca sempre Quel Conversion Matrix Di murder Di murder Verdissima Ne facciamo un altro Così nel dubbio Giochiamo coppe Voila E poi cos'altro vuole? Vuole un ME Covered E glielo diamo subito Eccotelo qua Ci facciamo L'ME Fluid Terminal E lo mettiamo Lo mettiamo Qui Vediamo che accade Ta-da Ma è bellissimo Bene A cosa serve L'Extra Shell L'Extra Shell Serve per Storare Alla stessa maniera Dell'Upled Energistic I liquidi E noi produciamo Tanti liquidi Soprattutto quelli Laggiù Ma Prima di produrre Liquidi Devo Cioè di storarli Devo trovare un modo Per portarmeli In questo caso Voglio creare Vediamo se abbiamo Delle blaze Ne abbiamo soltanto tre Oh 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 Ma che pacco Incredibile Oh 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 Sono così fesso Che continuo a spostarmi a piedi Quando in realtà Abbiamo questa alternativa Molto 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 Più bellissima Ta-da-da-da Andiamo qui E prendi Ah È vero Ho messo delle Ender Chest Tutta sta roba Me la dovrei riprendere Eh già Eh già Eh già Eh già Eh già Ok torno a casa Un attimo Non ci sono riuscito Oddio Prima o poi morirò Ottimo Di qualcosa Fatemi alzare un po' il volume Mi piace sentire Swish swash Quindi andiamo a vedere Blaze Oh Eccole 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 Ne possiamo fare Sei Ottimo Quindi nove Andiamo a prendere Il crafting Dell'ender tank Voilà Anzi no Prima sicuramente Gli dobbiamo fare Due calderoni Questa Elander Chest Non ten culo E Ora Voglio usare Il cactus Cactus Molto bene Il cactus Eccolo qui e andiamo siori e siori a mettere oppela, aio sopra al nostro ciccio pelato invece che usare sti drum che sono piene come, mamma mia sei su off si, ok, allora rompo questo drum, rompo questo drum rompo questo drum, prendo questo drum, faccio così, così e così voilà e ci metto però non la voglio riempire di merda quella bianca, quindi la facciamo diventare green, oppela e oppela, io tendo a usare molto di più l'ender storage che i tesseract, i tesseract li passo, li uso soltanto quando voglio dare l'energia, tendenzialmente ora, se l'ender tank si rompesse io potrei andare avanti nel let's play altrimenti no, grazie ah, pensavo che si oddio, mamma mia, mi devo fare un piccone più migliore assai ok, ok, ok andiamo un po' lontano eh, non abbiamo energia andiamo un po' lontano non abbiamo energia dannazione, sei su sono fantastici questi cosi ma ciucciano come degli addannati ah, eh, eh, eh creatore dell'enderai io ti prego di mettere qualcosa di un po' più tipo decente perché, eh, eh, eh hai rotto il case eh, dunque mh egg che sono i miei preferiti il mio cibo preferito facciamo così ok e poi andiamo a prendere andiamo a prendere no, no, aspettiamo semplicemente che spawnino i mostri quindi facciamo dovrebbero essere spawnati dovrebbero star spawnando ah, io ecco qua un po' di sto fregno qui come si chiama? di, 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 di mob essence la mob essence utilissima utilissima ok ora, fatto ciò ci serve da craftare un interface per i liquidi l'MF fluid interface craftiamo un interface e fortunatamente ho già fatto il conversion matrix di murder e andiamo a a craftare un altro covered va bene lo facciamo subito ed ecco qua l'interface allora lezzo che non sei altro dove ti metto brutto le zone ti potrei mettere ti potrei ma perché sto gli faccio fa sto giro basta mandarlo qua che strano basta mandarlo qui perfetto 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 ti potrei mettere ti potrei mettere tipo tipo dove potrei mettere tipo vorrei metterlo ecco ci sono ci sono ci sono ragazzotti belli vorrei metterlo un po' più staccato ma non sotto sotto lo destine ad altro ho ben due cavi ottimo possiamo farci tutto quanto tipo niente però per ora mettiamolo qui ma che ce frega ma che ce importa qua dietro io qua vorrei chiudere o forse vorrei allargare non lo so devo decidere ancora qua qua qui qui qua vorrei mettere questa bellissima endertank che però non so se da direttamente proviamoci ora il mio problema è che sono un tappo e che quindi non vedo l'endertank ok la rendiamo verde oppela oppela io ho detto oppela e qui dentro entra la mobessence ottimissimo 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 fantastico meraviglioso andiamo di qui andiamo di là tra l'allero tra l'allero là perché non se la ciuscia perché non ha uno storage per i liquidi tashi sua quindi extra shell andiamo a fare uno storage per i liquidi ad esempio ad esempio l'M1K brilisbronved oppure potremmo fare direttamente il 64 vogliamo fandolo non so come si fanno questi vediamo un pochino si fanno con questo ne posso fare tre un po' un pacco quindi creiamo altri di questi tanto crepi l'avarizia che ce frega facciamo 6 va bene poi facciamo due di questi fatemi vedere che cacchio ci posso fare con due di questi posso fare un 4k mentre voglio creare almeno un 16k un 16k si fa con questo che ne ha bisogno di tre di quelli che abbiamo fatto noi quindi andiamo a farne uno due e tre li buttiamo dentro e facciamo un altro di questo what's American boys che manca manca la polvere the dust andiamo a fare due dust ok abbiamo fatto questo quindi posso fare l'M e 16k dobbiamo soltanto fare dei cavi dei cavi che effettivamente mi mancano dunque 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 cavo cavissimo cavo prendiamocene 34 e crepi l'avarizia torniamo qui ci facciamo tre tank di questo tipo ma non ho più vetro maledetta primavera non ho più vetro proprio eh sand cazzo sand sandissimo sand sand per i veri amanti della sand sand compra anche tu della sand aspettiamo un pochino mentre aspettavo la sand ho effettivamente modificato il l'impianto culinario guardate un po' adesso la redstone furnace manda a tre generatori culinari con un round robin cioè fa uno due tre uno due tre uno due tre invece manda le tutte ad uno qui dentro ho buttato delle uova ma sembrano mantenersi vediamo qui se stanno crescendo erano quattro stanno diventando tre speriamo bene e qui l'energia arriva arriva non sarà velocissimo ma arriva chissà se poi potrò fare farm più grandi con questo motore boh 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 però se in regia possiamo usarla possiamo usarla vabbè adesso dovrebbe essersi fando il nostro la nostra sand ma perché c'ho la glostone in mano boh 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 bohissimo facciamo così così buttiamo questo uh la mob essence interessante e scusate soffoco un rutto lomeo extra cell andiamo a fare ste cazzo dei tank che abbiamo pure la minchia rotta scusate queste queste qui scusate questo questo qui ok ne ho fatte 24 vaffanculo facciamo ma facciamone tante che ci frega solo tre che pacco incredibile e cosa stavo fando stavo fando questa no stavo fando questa qui scusate olè la possiamo mettere qua dentro perfetto e adesso guardate mob essence storata dentro e questo non lo prende purtroppo si duplica si sta dupliando oh mio dio ma me l'ha svuotato serio davvero 147 vediamo 200 bellissimo me lo sta svuotando maraviglioso ma non sono più ciccio sono sono vuoti eh ciccio sei vuoto dovresti diventare di un altro colore oh mio dio non riuscivo a baggarlo ah è vero è vero è vero è vero andiamo a prendere anche vieni qui vieni qui e dov'è la behinder cestina questa qua andiamo a prendere anche fermi tutti che ho visto uh no passa le pareti polca puttana polca polca polchissima fighissimo ok va bene andiamo a prendere qui c'era una c'era una c'era una c'era cassiopea forse l'ho messi l'ho messi dentro al sistema può essere andiamo a vedere drum eccolo qua uno buono andiamo a vedere qui dentro no e andiamo a vedere qui dentro mh 4 cazzo ok buttiamo tutta tutta la nostra mob essence qui dentro cazzo quant'è vai svramm mi la svuoti tutti fantastico il mio telefono è scarico come potete sentire e qua dentro abbiamo mille secchielli di mob essence wow e per vederli meglio io voglio assolutamente fare un 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 m storage monitor facciamo un coso coperto poi poi facciamo una level emitter ok la rendiamo fluid con un lapiscazzolo e dovremmo avere tutto quanto perfetto facciamo così attacchiamolo qui e non si vede un cazzo oh my god oh my god ti giri ah eccolo qui ok come faccio però non saprei bucklet prendiamo un brucklet prendiamo un bel secchiello di mob essence questo fregno te la riempie automaticamente oh fantastic fantastic brilliant meraviglia mi piace tantissimo questa cosa ah ecco perché c'era la glowstone voilà e voilà la mettiamo un po' qui affando tutte queste cose oddio non lo so quante ne produci 200 che è già pieno no ma chi se ne frega bene 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 signori io voglio 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 che cos'è questo boh assolutamente boh voglio 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 vedere se se uh ma che cazzo di storia fermi tutti non ho i fish mi serve un pesce come si craftano i pesci come si craftano i pesci pesce pesce fatemi pensare un attimo velocissimamente ci sono per chiudere la puntata in bellezza voglio fare un fisher eccolo qua dove sei viene qui si fa con le cannule da pesca una due e tre prendiamo e mettiamole tutti che cacchio è sta roba giusto la macchina e i secchielli datemi un secchiello cosa ci vuoi fare lo voglio dare in testa a chi lo mi va per e per e per non ho energia da dargli quindi però non ho neanche acqua ora che ci penso dov'è la mia acqua sapete che c'è il rischio che io chiuda tutte le fonti d'acqua per sbaglio e tipo mi attacca il cazzettino forte ok allora la mia acqua la mia acqua la mia acqua la mia acqua dovrebbe essere laggiù scusate si sta abbassando la voce quindi facciamo così e andiamo a prenderla mamma mia mamma mamma mia mamma eeeh pimata eeeh pele pimata dove la facciamo la facciamo lì la facciamo qui la facciamo là non lo so devo 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 masticar ton 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 brick prendiamo un po' di brick che ci serviranno tanto serve una pozzetta piccola non troppo eccessiva e l'energia la prendo da questo qua che sembra essere pieno 63 43 64 signori cazzo che bomba sta andando alla stragrande tocca vedere se finiscono però queste cagano ok vieni qua da me mia peccalò fregnetto continua la tua corsa bravissimo allora 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 si scaricano in un baleno ste zoccole che non sono altre hop 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 e basta e hop 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 facciamola facciamola un attimo velocissimamente qui dunque prendiamo il nostro stone bricks fido stone bricks lo mettiamo qua facciamo un cicetto mettiamo il fisher rompiamo il cicetto molto bene prendiamo i nostri due bicchierozzi d'acqua mettiamo uno e due non mi ricordo mai come si fa l'acqua infinita in minecraft molto bene e voilà e ah una torcia una torcia importantissime torce dove sono le torce molto importanti molto importantissime eccole qua ci facciamo picket e proc mettiamo il leadstone e vediamo un po' che Cassius succede dovrebbe andare no col Cassius adesso stai funzionando sei meraviglioso è lentino a lavorare è lentino 900 quasi che cazzo saranno saranno uno due tre quattro cinque ogni cinque 9 45 secondi beh aspettiamo un attimo e rullo di tamburi olle un pesce ok io potenzio un po' l'affare altrimenti va lento quanta morte vieni qui tu brutta bestia schifosa pelosa lo mettiamo qua va uguale veloce uguale e collezioniamo otto pesci eccoci qua ho collezionato dieci pescioni quindi signori concludiamo la puntata facendo questa bellissima bellissima dove la metto la metto qui bellissima foca che cazzo è un walrus è meravigliosa ah 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 ma c'è bellissima ah 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 d'accordo ragazzi io ho fatto un casino di roba questa in questa puntata noi ci vediamo nella prossima puntata in cui forse guarderò l'esperienza forse guarderò l'autocrafting dell'upload forse rifarò tutto l'impianto di produzione della robaccia in maniera molto molto l'upload